Ciao! Ciao! Patente simulatore cellulare, trattamento fondamentale per le rughezioni fatiche dell'assamento contano da utilizzare dopo i 40 anni? Come dopo i 40? Ma che diavolo ti metti addosso? Senti, io ho bisogno di fumare. No, non ho bisogno di bere. Ma rilassati, per piacere, stai veramente esagerando. Pronto? Ciao! Sì, come stai? Io sto bene. Sì? Are tu? Va bene, allora... A domani? Va bene, ciao. Un bacio. Allora chi glielo ha sconosciuto? È un fantastico uomo affascinante e misterioso. Io mi auguro che questa volta il tuo affascinante e misterioso non sia sposato. Ma no, la fede non ce l'ha. Ah, che brava! Questa è una prova che lo solverebbe per il ragionevole dubbio. Allora... 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 Allora...